Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Winter Research Simulator Un gioco che è veramente molto molto particolare È un qualcosa di originale, mi sento dirlo Ed è un qualcosa di tremendamente profondo Vi permetto subito, questo gioco è puntato non tanto a spiegarvi come giocare Perché c'è un tutorial veramente, secondo me completo Ma poi alla fine vi dà le chiavi in mano e vi dite cavoli cosa devo fare ora Ma è un video puntato al fatto di farvi dire o meno Uh che figo, che voglio assolutamente giocarci Ovviamente il video non è sponsorizzato da nessuno Il gioco mi è stato dato da provare E ve lo porto insomma, andiamo a provare Il gioco è giocabile in tre modalità, la scenario, la carriera e la modalità libera Andiamo a prenderci una partita salvata, la partita salvata che ho fatto questa mattina E il gioco costa, so se 16 euro E da che parte cominciamo? Beh, iniziamo col dire che ci troviamo in una località di montagna Un'località che si trovano molto da me, dove abito io Ovviamente non qua vicino, non farmi un'oretta di strada ma ci posso arrivare E amministreremo un resort sciistico Quindi avremo la possibilità di gestire un impianto di risalita e altre cose Allora io vi spiego Ora abbiamo avviato Possiamo muoverci liberamente Non ci sono vincoli Insomma siamo sulla montagna E inizieremo a vedere a breve i primi sciatori Abbiamo avviato questa caminovia Che porterà gli sciatori qui E tutta la procedura di avvio di questo edificio L'ho fatto io L'ho fatto seguendo il tutorial Mi hanno portato ad attivare diverse cose Adesso qua noi siamo i proprietari quindi possiamo passare Vedete che ci sono una squintalata di indicatori Un po' alla Che possiamo andare a cambiare un po' alla Train Simworld Abbiamo La possibilità di aprire qualsiasi tipo di cosa Accedere a qualsiasi tipo di Oggetto Vabbè qua no Però nell'ufficio ci Li troveremo Possiamo salire di sopra Insomma questo è giusto per farvi vedere Il primo anche questo che Ci fa capire lo scambio Cioè praticamente noi dovremmo la sera Andare a spegnere l'impianto E quindi andare a riparcheggiare Tutta la cabinovia Dentro questo parcheggio E poi andare a cambiare gli scambi Quindi farli uscire man mano Regolarne la velocità In questo caso il tutorial mi ha fatto mettere La velocità a 1 Qua c'è un altro Vedete è in italiano Poi ogni tanto qualche messaggio esce in inglese Comunque vedete che tutti i tasti sono in italiano Tra l'altro anche qua dentro Vedete anche le luci La luce del parcheggio Insomma è tutto Arriveranno gli scelatori a breve Spero E noi siamo arrivati qua in macchina Abbiamo fatto un bel pezzo di strada E siamo arrivati in macchina Ma la cosa che adesso vi faccio vedere È questa Adesso Perché abbiamo dovuto mandare Pensate La prima cabina Nella stazione sotto E una volta inviata sotto Ho dovuto chiamare Ho dovuto usare il telefono Per chiamare giù E dirgli Avete ricevuto Ok avvio Ok Molto semplice però insomma Qua ci sono altre cose Luce il ponte Arie d'ingresso Guardate qua Guardate questo Questo C'è l'arresto di emergenza E tutto Ma la cosa più interessante È questo Questo è un touch screen Che ci fa vedere veramente tutto Come fosse professionale Possiamo andare a vedere il parcheggio Possiamo allestire Il parcheggio E parcheggiare Tutto Andare a chiudere la finestra Vediamo l'ora L'ora A me sembra Passare molto molto lentamente Non dico in tempo reale Ma quasi Quindi Abbiamo tutto il tempo Abbiamo l'importo dei soldi in alto Prendiamo a vedere anche il menu Andiamo a vedere l'ingresso Possiamo aprire Chiudere Le barriere di ingresso Guardate quanti tasti ci sono Sedili riscaldati No Non è cliccabile Le luci L'annuncio Mamma mia Quanta roba Il tutorial non me l'ha fatto vedere sta roba Monitoraggio Posizione Fumo Freni No Non c'è nulla di questo Ancora cliccabile Però il mio Sono cose che Verranno aggiunte in seguito Sì Probabilmente Probabilmente sì E E niente Poi vabbè Si può interagire Ma credo sia anche piuttosto inutile Con i vari cassetti E roba varia Qua dentro Ormai Se arriva qualcuno Che ci fa un po' paura Ci mettiamo all'interno Vabbè Comunque Dovrebbero arrivare Gisciatori ora Perché l'impianto è stato aperto L'impianto Ovviamente Di nostra proprietà Vi faccio vedere il menu Con cui possiamo vedere Il metro Dei prossimi giorni Lunedì Bello Sarà un po' gelato domani Che martedì E poi di nuovo bello E potremo andare a vedere Le funivie Che possediamo La capienza massima Etcetera Le strutture Abbiamo Una Una struttura Con Il catering Quindi la possibilità di Oggi c'è costata 9000 Di rifornire Il catering Di questo Che è la Dovrebbe essere qui Ops Scusate Mi sono Ok Infilato lì E Potremmo inviare la roba Ogni volta Le cose vengono inviate Alle 8 e 30 della mattina Eccolo lì Sì scusatemi Questo è il catering Quindi Ah Eccoli gli licciatori Che sono arrivati Cioè non Non Ah sono arrivati da qui Ok Salve E la quanti E la madonna Salve salve Io sono il proprietario Adesso vi fate Il bombardino E poi andate Ok Va bene Va bene Sì Ogni Texture un po' Slavate Insomma siamo Dettaglio ultra Non plus ultra Però Vabbè comunque Siamo tutti pieni E tra poco partiranno Guardate che bello Il lago alpino Guardate che bella La vista E ho poche volte Ho avuto l'opportunità Di andare così in alto Quando andavo a slittare Ma veramente Qualcosa di unico Totalmente anni luce fuori Da qualsiasi Da qualsiasi Ambientazione Che non è la vostra casa Insomma E niente Adesso gli licciatori Inizieranno Inizieranno a prendere Gli sci E andare Vedete qua Possiamo arrivare Noi personalmente Con la macchina E portare la merce Quindi Ordinarla in paese E portarla qui O farla Mandare in automatico Qua abbiamo Un'informazione Comunità Può esplorare il mondo Non solo a bordo di veicoli Ma anche sugli sci Per un tasto Backspace Modellità sciatore Ma io non so sciare Magari Il problema Non è tanto La modalità sciatore Perché posso anche attivarla No Questo possiamo Disattivarla No Vabbè C'è questa modalità Che è un po' così Perché Mi Mi può far Tipo modificare il gioco Ma non Non mi interessa Onestamente Vabbè Abbiamo anche le piste Vedete Adesso possediamo la pista 3 Che è quella Questa qui Che scende In paese Vedete Possiamo andare a E la cabino via questa Possiamo andare anche a Poi Aggiungerne altre Con ristoranti E così Quindi possiamo andare A espandere Il nostro possedimento Possiamo vedere le valanghe I pericoli di valanghe Possiamo andare a spazzarle via Noi stessi Così come Dobbiamo preparare La mattina Le Vabbè Qua c'è la creazione di neve In paese Noi siamo qui adesso Se la mappa Non E qui abbiamo Il cannone Possiamo andare a guidarlo a mano O guidarlo in remoto Quindi andare a Sparare neve Qua vedete che c'è la pista L'arrivo della pista E questo è il nostro garage Dove La macchina Abbiamo La macchina E lo spazzaneve Il gatto delle nevi Scusate Non è lo spazzaneve Perché in realtà Quello che noi facciamo La mattina presto alle 7 E andare a Compattare la neve All'arrivo Quindi tutta quella neve Diciamo tutta fatta A righe Insomma È la neve compattata Che si fa All'arrivo La mattina Quindi Possiamo Avviarlo adesso Oppure Andare a mano Qua abbiamo i messaggi Con i Le missioni finite Il buongiorno Gli aiuti Da parte del tutorial Gli ospiti che abbiamo Che al momento Con le valutazioni Su A livello di funivie Che sono tutti molto contenti Il meteo Poi le strutture Non c'è niente La reputazione Le aspettative Il prezzo del biglietto Il pass E il pass pomeridiano Abbiamo venduto 60 biglietti Finora Abbiamo 60 ospiti Aspetteremo a fine giornata La recensione Qua possiamo fare degli investimenti Sia a livello di prestiti Che a livello di Funivie Compararle Andare a investire anche in nuovi bar Questo possiamo venderlo Possiamo andare a noleggiare E altre cose E' abbastanza complicato Come cosa Perché di piste ce ne sono tante Insomma Ed è un vero e proprio Simulatore di lavoro Abbiamo i veicoli Con la nostra auto Che è qui Abbiamo Lo spazzaneve Il gatto delle nevi Come volete Quello che compatta Il compattatore Giù Vicino al cannone Per la neve E qua invece abbiamo Il negozio Dove possiamo andare Ad acquistare i macchinari Guardate quanto costano Addirittura anche La marmotta snowfox La Particenta Motoslitta Detta volgarmente Possiamo andare a comprare Vabbè Ce l'abbiamo già 35.000 euro Veicoli da strada Abbiamo il marmotta azad Che ce l'abbiamo già Nessuna voce sui vari Oggetti niente Mod niente Insomma Ma al momento Non c'è tanto Qui nel negozio Ma io rimango fiducioso Comunque io adesso Eccoli qua Gli scettori che arrivano Cioè veramente È Molto Molto complicato Perché comunque Quasi ogni tasto Abbiamo visto A parte il touch screen Che ha veramente Di tutto e di più Si va a modificare Qualsiasi cosa All'interno del Del sistema Quindi adesso Anche qui Abbiamo la luce Adesso però Non me la clicca più Perché Probabilmente L'ho buggato io L'ho buggato io Cliccando Questo Probabilmente Infatti Non ho Sincronizzato Il No 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 Ma non voglio Di scio No 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 Ok Posso così Grazie No infatti Sono andato a A buggarlo Inutilmente Ma va bene Va bene così Vabbè comunque Adesso magari esco Perché Magari Faccio un save Ed esco Così adesso Vi faccio vedere Si potrebbe fare Il viaggio Nella cabinovia O il viaggio In auto Ovviamente È inutile Che io vada A fare Il viaggio Ok Ho dovuto Ricaricare Appunto la partita Perché Perché Mi ha dato problemi Con il menu tecnico Sembra più un menu tecnico Che un menu Per poter usare Gli sci Insomma E accedere All'editing del gioco E in pratica Adesso Dovrei poter Sì infatti Riesco a cliccare Nuovamente Non so che cavolo Avevo combinato Comunque adesso Gli sciatori Inizieranno a scendere Io prima di fare La sciata E arrivare in paese E farvi vedere Le altre cose del paese Vi faccio vedere Il garage Il garage È molto interessante Perché Possiamo andare Non credo No Lo possiamo fare Anche qui Non so poi qua Se effettivamente Potremmo fare qualcosa A livello di riparazione Sarebbe figo Comunque Possiamo Come anche in paese Andare ad alzare La Claire Qui Andare a fare benzina Ai veicoli Perché ogni veicolo Ha la propria benzina Allora È molto arcade Come stile di guida Ve lo dico subito Possiamo aprire O chiudere Per caricare Scaricare i merci Entrare a bordo Dopodiché potete impostare In automatico Se chiudere le porte O meno Io preferisco chiuderla io E poi si va ad accendere Il motore Col tasto invio Del tastellino Si accende Poi si può Con l'1 2 3 4 Andare a cambiare La visuale Toglio il freno a mano Mettere la retromarcia Col tasto F Non c'è fisica Cioè non si scivola Sul ghiaccio Però possiamo andare A guidare E quindi andare In paese Avete in basso a destra Tutte le frecce Che possiamo attivare Con i tasti Il freno a mano Abbiamo gli abbaglianti Gli anabbaglianti Abbiamo il cruise control E non so che altro Perché Mi pare tutto qua Poi i comandi Cambiano leggermente In base a Se usiamo O meno Il gatto delle nevi Allora Continuo a chiamare Il gatto delle nevi Ma non è il gatto delle nevi Comunque Spegniamo il motore Perché qua Va bene No si spegne da solo Ci butta già fuori Quindi va bene Eh niente Gli sciatori Non si fanno ancora vivi Quindi noi Scendiamo adesso Non è che Anche perché poi Se io scendo Poi Scendendo La macchina mi resta qui E saremo Due o tre chilometri Dal paese Quindi Io poi Non me ne intendo Non me ne intendo Di sci Perché ho sciato Forse tre volte In vita mia Quindi Nonostante sia Abiti in un posto Di Sciatori Ma Ah ok Si parte di là Ok La pista inizia di là Giustamente Vediamo un attimo Che cos'è questo Che magari mi è sfuggito Ok Questa è la mappa La mappa interattiva Insomma Le piste Aperte È solo una Quindi si va Adesso si scende E andiamo a sciare Là in fondo C'è qualcosa Ma deve essere Un altro edificio Di quelli Vabbè Comunque Sciatori Si parte Andiamo Si Dovremmo partire Adesso vedo Dove vanno gli altri Ma Non Non ne sono molto sicuro Che sia qui Comunque Andiamo Sperando di non Baggare il gioco Ok No Mi sotterrano Gli sci No Sto andando Ok Si Diciamo che non è Non è propriamente Steep Come Come stile Per niente Giusto per niente Però Vediamo se riusciamo Ad arrivare in fondo Ovviamente Mi direte Non si va così Con gli sci Se ti ammazzi E sono pienamente D'accordo con voi Lì sotto Sembra esserci Un altro rifugio I sci Poi sono coperti Completamente Dalla neve Comunque Andiamo giù Sembra Un fuori pista Proprio Con i fiocchi Questo Lì vedete C'è la strada Si direi Che siamo decisamente Fuori Totalmente fuori Dalla pista Sì Decisamente Fuori Dalla pista Comunque Continuiamo a scendere E diamo un'occhiata Non è Bellissima Diciamo La grafica Di questo gioco Ma Mi sa che il paese È sopra lì Comunque Diamo un'occhiata Anche Che cos'è Questo posto Qui Però insomma Che cosa succede Sono le 10 alle 9 E Ah no 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 Eccolo là Cioè credo No Non è neanche quello Cioè sto finendo Continuamente In posti diversi Perché questo qua Sembra essere invece Un parcheggio Un parcheggio Di non so cosa Perché Allora Scusate Adesso Io voglio Scendere Ok Camminare Questo è un parcheggio Vediamo Se troviamo Il modo Di Di andare Questo si è incastrato Nel palo I pali sono proprio Delle Fatti di Di cemento E quindi Non c'è modo Di Di buttarli giù Se ci finite addosso La macchina si ferma Quindi a livello Di fisica Diciamo che non è Granché Ma è un simulativo È un simulativo Che poteva essere Un simulatore Di Di sci Con visuale Dall'alto E ha scelto Di essere Un simulatore Di sci Di resort Invernale Un po' Alla My summer car Che poi Il bello Che mi sono Praticamente Perso Cioè Non so C'è gente Ovunque Ah no Eccolo qua Eccolo qua Sono andato in paese Sono andato in paese Devo capire adesso bene Dove La mia La mia Il mio parcheggio Perché il mio parcheggio Mi consente Là c'è la strada Ok eccolo qua Eccolo qua Il mio parcheggio Siamo arrivati qua A questo punto Noi non possiamo Prendere nient'altro Però Adesso Dovreste poter vedere Qui Questo è il cannone Quello che abbiamo visto prima Perché La risalita Vedete Quella è la risalita Vedete Questa l'ho fatta prima Poi mi ha permesso Di saltarlo Non sono stato lì A compattare Comunque andava Compattata Tutta questa parte finale In modo da permettere Agli sciatori Di fermarsi Quindi la cabino via Mi riporterà su Adesso io l'ho fatto Per farvi fare un giro Poi ovviamente Dovremmo anche Fare i conti Con Quello che dicono Le persone Quello che dicono I I nostri Clienti Ah scusate Io salgo qui Intanto Cioè posso andare Anche in teoria A toccare La roba lì A fermarlo Perché sono Grande capo Adesso Vediamo com'è Ci accomodiamo Della verità Mi sa che non sono mai salito Su una cosa del genere Sono salito su No Forse si Su altre cose Comunque In Svizzera Ovviamente sono Iper efficienti Comunque Adesso Cosa si fa Cosa si fa Si fa Due passi Eh se mi fa partire Grazie Adesso dovremmo iniziare a salire E poter vedere magari I primi sciatori Bello il fatto che si può zoomare Con La rotellina Eh Si Mi fai partire Siamo pronti Eh Sono Sostituto No Sì Dai Che palle Poi bello il fatto Che comunque Sembra viva la città Si vedono gente passare Si vede gente passare Si vedono auto passare La sto trovando Comunque piuttosto Realistica Come animazione Come movimenti Come gente Che si mette lì Si siede Si Si beve qualcosa Cioè molto bello Ora Dovremmo iniziare La risalita E spero di vedere Anche i primi sciatori Scendere Sono normale 8 e 53 Se non inizi A sciare adesso Insomma Non vedi più Intanto volevo dare un'occhiata Ancora il gioco va avanti Eh Se abbiamo Ok Abbiamo anche le piste Che sta piacendo La pista sta piacendo molto Mi manca un feedback Sulla struttura E Bisogna fare sempre attenzione Ai prezzi Come dice il gioco Perché se mettiamo Un prezzo alto Le aspettative Saranno sicuramente alte Abbiamo 132 ospite In questo momento E C'è un pupazzo di neve C'è veramente Ogni tanto alterna Proprio delle Delle grafiche Veramente Spartanee A Dei Delle chicche Veramente ben fatte Eccoli gli sciatori Ho puntato Al massimo Diciamo il dettaglio Anche sulla distanza E direi che A parte il fatto Che hanno Le gambe Dentro Completamente Dentro la montagna Ma è una cosa Detta in modo divertente Non voglio assolutamente Fare Polemica alcuna Però direi Che Che non è assolutamente Male Ah ok E io purtroppo Non sulle piste Non sono mai andato Sono sempre stato Nelle zone Dei bambini Quindi Onestamente Non so dirvi Non so spiegarvi Come sia Delimitata La pista So solo Che stiamo usando La nostra cabinovia Per Tornare Su Al nostro Villaggio Insomma Al nostro Scusate Il nostro Resort Là sotto Dove vedete Il parcheggio Lì Dove c'è il cannone Della neve Dove c'è Il gatto Delle neve Insomma Il compattatore Di fronte C'è quel ristorante Quello lì che sto appuntando Adesso con l'indicatore bianco E da lì possiamo Acquistare 9000 euro di roba E portarla Noi su In macchina Caricando Cassa per cassa Solo mi parla Una decina di casse Nel pick up E le portiamo su Questo ci serve Perché Vabbè Lui le manda in automatico Su Alle 8.30 Ma se Nel giorno Di particolare Pienone Il nostro Centro Dovesse essere a secco Prendiamo La macchina E lo portiamo su Lo trovo Piuttosto Rilassante Sarà da vedere Come lo porteranno Avanti in futuro Perché Il gioco adesso Mannaggia Vi ho detto Che costa 19 20 euro Ma non ne sono Praticamente sicuro Quindi adesso Io controllo Immediatamente E vediamo E vediamo subito Se Temo di aver detto Una cavolata Infatti Il gioco Costa 29 euro Sono andato Oltre di 10 euro 10-15 euro Questo è praticamente Il doppio Quindi sarà da vedere Quanto sarà profondo A me sembra Già piuttosto Profondo Come gioco Perché Comunque di cose da fare Ce ne sono Ci sono tante altre cose Magari che andrebbero Sistemate Ma il gioco Permette Senz'altro bene Se cercate Un simulatore Adesso sono saltato giù Ma lo faccio prima Sembra Molto originale Il fatto che Ti faccia camminare Ti faccia guidare Manualmente A me se non è realistico A me non frega niente Come non è realistico Magari anche My Samar Car O altri giochi Ma tutto quello Che ti permette Di gestirti Comunque la vita Di gestirti I mezzi Un inventario Insomma qualcosa A me piace Veramente tanto Quindi Io lo apprezzo Infatti Quando ho visto Questo gioco Ho pensato subito Al simulatore Un po' Alla Jurassic Park Insomma Dove Costruite Tutti le cose Andate Quando poi ho visto Che ero in italiano Mi è interessato ancora di più Quando poi ho visto Che invece si camminava Perché leggevo di mezzi Di trasporto Ho detto Uh figo Bene Lo voglio E niente però Mi capisco anche che 20 e 30 euro Non siano pochi Sicuramente Mi pare di averlo visto A 20 euro Quindi Un 33% In meno Forse Sul link Che trovate sempre Qua sotto Che è quello di Instant Gaming Bello il rumore Della neve Sì Io mi sto facendo qualcosa Assolutamente Non è realistico Si vede Che io sono un po' Come una divinità Qui Perché Stavolamente Sarei già morto Probabilmente Finendo giù Dalla montagna Sì comunque Io non vedo Neanche sciatori Adesso Che Che passano Bello Anche se Siamo delle ombre Anche Comunque In concomitanza Del sole Sarà da vedere Come aumentare Ma mi pare Si possa fare Aumentare Il trascorrere Del tempo Perché l'ho visto Fare nel tutorial Dato che il tempo Si accelerava In automatico Quindi Si dovrebbe poter fare Ah ok Ok Ho risolto il problema Col tasto tab Si passa un mezzo Piuttosto che l'altro Va bene Accendiamo il motore Questo è il È il gatto Il compattatore Spengo il motore Si scende Qua la luce Io non mi ricordo Più come spegnerla Comunque Si può uscire Da lì Anche qua Abbiamo un touch screen Con la luce Della sala Che possiamo Accendere E spegnere E niente Siamo tornati giù Quindi tornando su Siamo di nuovo Su agli impianti Quindi bello 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 Davvero bello No È anche realistico Come tempistica Perché calcolate Che non sta ancora Tornando su nessuno Quindi probabilmente Devono ancora scendere tutti L'ultima cosa Che vi faccio vedere Giusto per Quanto il tutorial Vi guida Per quanto Vi vuol mostrare Quanto il gioco Vuole essere profondo Vi faccio vedere Quest'ultima cosa Qua All'inizio La mattina Quando è tutto chiuso Quando voi arrivate E aviate tutto Per la prima volta Il gioco Vi fa Entrare qui E vi fa Aprire Adesso le trovate aperte Perché le ho aperte io Stamattina Vi fa ispezionare Che tutte queste gomme Siano ok Poi Onestamente Io non so dirvi Se queste gomme Saranno sempre tutte ok O ci saranno guasti Sarebbe bello Il poter affermare qualcosa Per un guasto E magari intervenire A livello di manutenzione Questo non lo so Io poi mi affido anche Alla collaborazione Tra me e voi Nel senso che Se tanti lo scoprono Non lo trovano intrigante Vogliono prenderlo Benvenga Sono contento di ascoltare Le sue esperienze Ma se qualcuno L'ho già comprato E ne sa molto più di me Ah si lamentano Ok Perché ho bloccato tutto Vabbè E se qualcuno Invece ne sa più di me Venga a dirmi Un po' cosa ne pensa Quindi Ripristina Avvia Ok Ok ho riavviato Si stavano lamentando I miei visitatori Infatti è calato Sulle piste La valutazione Aspettative Si sta compilando Perché ho bloccato Proprio tutto Quindi c'è gente che Si sa quando si bloccano Ste cose La gente arrivano sulle ore Quindi Va bene ragazzi Questo era Winter Resort Simulator Cable Car Snow Car Ski È un gioco Veramente interessante E oserei anche Definirlo innovativo Perché è mix Comunque delle meccaniche Un po' alla Gold Rush Anche se vogliamo Gold Rush Tutto quello che è Farming Simulator Anche Con un gestionale Con il mondo Dello sci In alta montagna Quindi Quindi molto bene Molto carino Sarà da vedere Perché il gioco Non è ufficialmente In early access Quindi dovrebbe già Essere finito Ma io spero Che gli stiano dietro Che gli aggiungano E gli perfezionino Cose col tempo Sarà da tenere d'occhio Prezzo 29,99 Ma vi ricordo Che lo trovate Anche nel link Qua sotto Di Instant Gaming A 20 euro Circa Spero di avervi fatto Cosa gradita Portarvi questo video Spero vi sia piaciuto Lasciatemi ovviamente Un commento Come sempre qua sotto E noi ci vediamo Al prossimo video In play Alla prossima ragazzi E ciao ciao Ciao